ciao ragazzi come va sistemiamo qua i capelli a truccasse ormai chi ci pensa in quarantena nessuno ci siamo dai dai scrivetemi così ci parliamo anche un po ciao avete fatto lezione con Daniele? si su su ciao Ele come stai? tutto bene? devi convincere Claudia a fare lezione quando mi si chiamava visto che mi scrive in diretta guarda che io sto a fare lezione come state? tutti bene ecco Franci ciao Franci Franci ha lavorato tutto il giorno per noi brava Franci ancora non ci sei riuscita Daniela manco io pensa nessuno ci è riuscito è impossibile quanto tempo eh Franci ma mo ti faccio sfogare io ciao Terry mo la facciamo sfogare Francesca ciao Danielona come stai? allora ragazzi oggi ho intenzione di farvi sudare certificazione aerobica quindi facciamo un pochino di saltellini un pochino di di cardio cioè dovete strizzare la maglietta a fine di ho sudato brava Dani tutto a posto ciao Elena come state tutti bene stasera che cucinate datemi pure un po' di ricette perché qua cuciniamo sempre le stesse cose queste dirette devono essere interattive oltre a farvi allenare dobbiamo scambiare opinioni e quindi niente non mi dite che cucinate io faccio i troppi con la zucca e i sarsicci e un sacco di cose brava Daniela si mangia la pizza io domani ciao Giulia ciao grande Domitilla brava fatta in casa da Daniela al posto di San Benedetta fatta filetto su agria bravo liggio alla dieta io no Giulietta ciao c'è pure Stefanone saluta pure Stefanone se no ci rimane male ciao ciao Lorena ciao ciao zucchine con pelati e formaggio pone pone io le troffi con la zucca ci metto pure un po' di formaggio allora visto che comunque stasera tocca mangiare cioè Daniela mangia la pizza io le troffi con la zucca e i sarsicci e i bravola e tutto quanto Giulia non lo so perché non mi ha detto Giulia non lo so perché non mi ha detto tranne Gabriele che si fa il filetto perché vuole i muscoli tocca a sudare a da sudare quindi siete pronti a sudare? sì bravi carne e ferri ci hai ripensato eh Giussi? oh oh Daniela poi quando usciamo da sta quarantena si fa un bel brindisi carciofi gratinati amatriciana senti qua vedi che è sempre bello io alle mie lezioni ho sempre parlato di cibo anche qua in diretta lo dobbiamo fare vi è mancata questa cosa che è allo stretching però no sempre di che te sei mangiato ieri che te sei mangiato oggi eh è giusto sapere ci è rimasto solo quello da far mangiare allora un bacetto Andrea ciao Andrea che mi sono mangiato tutto mi mangio e niente qua si mangia e basta quindi tocca a smalti oggi a da sudare la lezione si chiama a da sudare allora metto un po' di musica e partiamo con la nostra sudata se te che c'hai la panza Andrea non ci credo un macco se te vedo proprio è in santi sempre bella pronti non funziona qua ok troppo alta eh mandamela ci penso io giusto va bene la musica mi sforma qua la panza dai famo una mega lezione alla fine cicciotelli tutti carini con ste guance gonfi eh belle sicuramente non saremo deperiti a fine quarantena allora mi dite com'è la musica che bene oggi ho pure scappi quindi posso saltare di più l'altra parte c'è solo i castini forma con la panza pronti no il bagnale mi sta allena bagnale mi sta allena ma come guarda e abri i piedi so vai 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 che serve carica oggi eh dai ragazzi buono e come è arrivato l'ultimo vuole perché io sono fungina tre due uno braccia e so single single vai su su quattro tre due e un tre tre cinque quattro due due e 1, 2, 4 4 3 9 dai manita non piso che stai tratta, sei pronta? singolo 4 3 9 10 10 10 9 10 4 3 9 10 11 11 12 12 12 12 12 12 13 14 15 15 16 16 16 16 16 17 17 18 18 18 19 19 20 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 21 21 22 22 23 23 24 25 25 26 26 26 27 25 25 25 26 27 28 25 25 26 27 28 29 30 31 32 1 3 4 5 8 7 2 Ciao Laura 4 3 2 2 2 3 2 1 3 2 1 5 2 2 4 3 2 1 2 2 3 1 3 2 2 1 2 8 7 4 3 2 1 4 5 6 5 6 7 6 6 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 11 12 12 12 13 14 12 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 18 18 19 20 20 20 20 20 20 20 20 18 20 20 21 21 22 23 23 23 23 23 23 23 24 24 2 solo fuori qua a vai 5 bello fuori guarda e solo 1 8 20 anni 8 lì già sotto l'altra sarà il topo di santina 4 3 2 1 e scanna l'altra 5 6 6 7 3 2 la tua un giro più giù e un po' scadendo vai vai e così parte di 2 2 2 1 4 3 3 8 7 6 5 4 3 2 1 e cambio 1 2 1 2 3 4 4 3 2 2 tocca fuori tocca fuori uuuh non mollare eh non mollare adesso 4 3 2 3 3 3 5 4 3 2 3 2 3 4 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 13 13 15 12 12 12 13 14 15 14 16 17 17 18 18 18 20 20 20 20 18 20 20 20 20 20 20 21 21 22 22 21 andiamo a 20 4 3 2 uno e due tanto 8 7 6 5 4 3 2 3 8 7 6 10 3 2 1 e 9 anche queste gambe che le vedo fate finita che le vedo 4 3 2 non volate non volate sono venuta a fare i leggings oggi per voi quindi porti da palestra 3 9 2 alzate alzate più alzate più alzate 4 3 2 2 2 3 5 6 6 8 8 9 9 8 9 10 2 9 9 10 9 10 12 10 12 12 12 13 13 13 14 14 15 15 15 è una partita bassa 3 2 1 rimango qua scendi scendi ancora 8 7 6 vai scusate e 8 7 6 5 4 3 2 rimango qua 2 8 7 6 6 4 3 2 3 4 4 5 4 5 5 5 6 6 8 9 10 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 15 15 16 16 17 18 19 20 20 20 21 21 22 se mi cadono a terra mi cadono come non lo faremo 3 2 1 2 4 3 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 3 2 3 2 8 7 6 5 4 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 1 2 2 3 3 2 3 3 2 1 2 2 2 3 2 1 2 3 2 2 2 4 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 3 2 3 4 5 4 3 2 8 4 6 5 4 3 2 8 7 5 5 7 8 8 9 9 10 9 10 10 10 11 12 12 13 13 14 15 15 12 15 15 15 15 16 16 16 17 18 18 18 19 19 20 20 20 20 20 20 21 20 21 21 22 23 25 chiudiamo ancora e 8 7 6 7 4 3 3 lento torna lento torna lento 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 3 2 1 2 1 lento 8 5 5 5 6 6 7 10 10 10 10 molleggia 8 7 6 2 4 3 2 5 5 6 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 7 8 9 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 9 9 8 9 9 9 10 11 11 12 12 11 11 12 12 14 14 15 15 15 15 15 16 18 18 18 16 19 20 22 22 22 23 23 23 24 24 25 25 Questa posizione Teniamo le gambe Mani sulle spalle Incrociate Scendo, scendo giù Torno, torno su Da qua, così Scendo più che posso Salgo più che posso Vai, scendo più che posso Stringete l'addome qua Vi fanno male i quadricipidi? Tirano? Salgo, ripartita Stop Vai 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 Ancora, felissimo, torno Torna Teni che tuoi Torno Vai, felissimo, tuoi Da qua Ascami Salto sulle spalle Vado, torno Vado, torno Vai, torno Vai, ancora Vai, ancora Vai, tro Uno, qualsier Treino Quasi 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 Corro Sì giù di potere, vedete? Sieni, sieni, sieni! Torna, piaga! E, torno! Sieni, sieni, sieni! Torna, es, piaga! Torno! Non sa, no! Sieni, sieni, sieni! Torna, torna, torna! Piaga, torna tu! Sieni, sieni, sieni! Torna, torna, torna! Piaga e torna tu! Mi macato solo 4! Vale, es! Sieni, sieni, sieni! torno, torno, torno torno, torno sono 3 torno 2 torno torno ultimo torno 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 Enziere. 12, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 12... 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, parties. 3, 2, 1, pari più Jackson. Noi qui ceci. vai, ancora, 8, 6, 5, 4, 3, 2, gli ultimi 8 per me, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e ancora 8, 7, 6, 5, 5, 6, 6, 7, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 20, 4, 4, 9, paio, 2, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Anche la notte. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ciao Danielone! Ancora! 5, 4, 3, 2, rimanete su e molleggiate. Verso l'alto molleggio. Vai! 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 Non fanno 4, 3, 2, rimanete su. Sì! 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 E torna! Sì! E torna! Sì! 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 E su! Ancora 8! 8! 7! Sono sempre buona, vero? Sì! E 4! 3, 2, rimanete su e molleggiate! Sì! Sì! 2, 1, 2, 3, 2, 1. Ancora 8! 8! 7! 6! 5! 4! 3 10 9 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 14 15 15 16 16 16 16 16 18 18 16 18 18 19 19 20 20 20 20 20 20 21 22 22 23 25 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 26 26 26 26 26 27 27 27 28 29 25 25 25 25 26 26 27 28 28 29 29 25 25 25 25 25 25 25 26 26 27 28 28 28 28 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 30 31 Non è vero, non mi ascoltate Ce n'è bene? 8 7 6 5 4 3 2 1 e lascio Bravi Diciamo che vi posso pure lasciar stare Allora, come state? Ora facciamo stretching Come va? Scrivetemi un pochino Se vi va Se vi sto ancora simpatica Quindi? Sì o sì? Dai ragazzi Abbiamo eliminato per voi un po' di pancia Che ci riverrà assolutamente questa sera K.O. Brava! Meglio Ok, nel frattempo che voi vi Mi scrivete Perché tanto non mi scrivete mai subito Da qua state ancora sdraiati Perché ancora non avete preso il telefono Ginocchia al petto E tiro Grande Giulietta Lei è morta Brava Marika So contentissima Sto morendo ma ce l'ho fatta Grande! Ok, per oggi va bene Insomma Come insomma? Va bene Bene, bene No, no Mandami la foto Giallù Come stai fuori forma? Giù Dai Un attimo riprenda forma qua Pure noi stiamo fuori forma Stiamo in quarantena Tutti quanti Grazie Da qua Ginocchia al petto E tirate Tirate forte Le ginocchia verso il petto Rilassiamoci un attimino Apriamo le braccia fuori Portiamo Le gambe da un lato E il busto dall'altra Dunque volevo fare Un complimento a Marika Perché non era una lezione semplice Brava Ok Inspiro e salgo Fuori l'aria E cambio Dall'altra parte Rilassate Buttate fuori l'aria Ok Da qua piano piano Lidiamo su Gambe vese Prendo le punte dei piedi E tiro Ciao Dario Guadagnali Che ci guardi Mentre facciamo stretching Qua Ok Una gamba piegata All'altra tesa Vado a prendere La punta del piede E tiro Ok Cambio gamba Lo stretching Gravido Sveglia il nostro Grande Dario Alle 17 La nostra Daniela Vestellini E alle 18 E 30 Il nostro Gradi Danielone Quindi Mi raccomando Seguite la pagina Vedete tutte le lezioni Come scrivete più Ele ci stai Com'è andata Ok Quindi stasera Potevi mangiare Senza rancore Davvero Sì Dario Sì Dario Ci avete la sveglia Con Dario Alle 11 Meno male Lele che sei zuppa Sudatissima Pure Giusy Brave O di che Vi siete impegnate Non l'avete fatto finta Ciao Terry Grazie a te Ciao Giulia Oh Giulia Montebovi Questo per te Solo questo Tremenda Sveglia con Dario Che cosa tremendo Dario Che cosa Ragazzi Ora dovete andare a cucinare Immagino Grazie Elena Grande Allora Mi raccomando Domani Sveglia con Dario Mi è avanzata la colomba Mi mangio un pezzetto Bravo Ce lo siamo meritati Alla fine Io ho fatto tutto questo Per la pasta Con la zucca Di stasera E voi l'avete fatto Per quello che c'avete per cena Allora Ci vediamo Prossima settimana Io vi mando un bacione Grandissimo E buon weekend Buona cena Sì sì Domani ci sono pure le lezioni Ciao ragazzi Grazie Ciao Ciao Sì 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 Grazie.